Ben ritrovati, buongiorno a tutti, buon mercoledì 14 aprile. Come ricorderete in questi giorni stiamo leggendo il terzo capitolo del Vangelo di Giovanni, il discorso tra Nicodemo e Gesù, con i passaggi che già in questi primi giorni abbiamo potuto fare, riconoscere la necessità di un rinnovamento del cuore, di un rinnovamento che parte attraverso alzare lo sguardo, attraverso il ricomporre il nostro desiderio, il nostro bisogno, la nostra attenzione verso Dio. Oggi continua la riflessione in questo dialogo tra Gesù e Nicodemo a proposito di cosa voglia dire rinascere dall'alto, avere un cuore nuovo dentro di noi. Invochiamo allora il dono dello Spirito Santo che ci aiuti a metterci in ascolto della parola di Dio. O Dio nostro Padre, tu hai inviato nel mondo la tua parola, sapienza uscita dalla tua bocca. Hai voluto che lo stesso tuo figlio, parola eterna, divenisse carne e ponesse la sua dimora in mezzo a noi. Manda ora su di noi lo Spirito Santo, affinché ci dia un cuore capace in queste sacre scritture e generi il verbo di Dio in noi. Amen. Ascoltiamo il Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo, Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Ricordiamo l'ambientazione di questo dialogo tra Gesù e Nicodemo. Siamo nel cuore della notte, è in quel momento che Gesù incontra Nicodemo. Nicodemo uscito di nascosto per incontrare Gesù. E pian piano Gesù lo sta facendo venire alla luce. Così anche l'ultima parte del Vangelo che abbiamo appena ascoltato, insisteva proprio sul tema della luce, del fare la verità, del guardare con obiettività dentro la propria vita, del riconoscere quella verità che è Gesù, che è la sua Pasqua, perché è questa a portare luce nella vita di ciascuno di noi. Occorre dunque riconoscere anzitutto questa verità in Gesù. È così che la notte comincia a cambiarsi in un'alba nuova. Una verità che è una vita fatta a dono. Il padre ha mandato il figlio nel mondo, non per condannare, ma per salvare il mondo. È riconoscere questa verità che produce in te un cuore nuovo, che ti aiuta ad alzare lo sguardo, a rinnovarti nel cuore e nella vita. E non è soltanto una verità da conoscere, da contemplare teoreticamente potremmo dire. È una verità da fare. Il verbo greco che dice questo, fare la verità, è il verbo poieo, lo stesso che si usa nella Bibbia greca per dire la creazione di Dio. È fare la verità sul serio, è renderla pratica, è renderla vita vissuta. È una verità che ti aiuta a fare poesia della tua vita, a cambiare la tua storia. È una verità che diventa concretezza dentro di te. Non una verità astratta da proclamare dai pulpiti, ma una verità che passa nel fluire della vita e che per questo fa nuove tutte le cose. Allora se la verità è così, se la verità è capace di essere vita vissuta, davvero vieni alla luce. L'espressione venire alla luce è equivalente di nascere. Ecco che comprendiamo in quale senso Gesù ancora nelle prime battute di questo capitolo, l'abbiamo ascoltato lunedì scorso, invitasse a nascere dall'alto. Se tu fai la verità, se accogli la verità che è Gesù, se questa diventa vita dentro di te, allora anche tu vieni alla luce, anche tu nasci. Ma che tipo di verità è quella che Gesù proclama, che Gesù è? Che tipo di luce Gesù è venuto a portare che le tenebre non vogliono accogliere? Ce l'ha ripetuto nella prima parte di questo Vangelo, che rilego e richiamo brevemente. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Questa verità che una volta fatta ti fa venire alla luce, questa verità che è la vita di Gesù, altro non è che lo sguardo d'amore di Dio sull'umanità. La vita di Gesù si comprende alla luce di questo, al progetto d'amore di Dio, lo sguardo d'amore di Dio sull'umanità. Solo l'amore è credibile, diceva un teologo del secolo scorso. Aggiungiamo, solo l'amore crea, solo l'amore guarisce, solo l'amore dà vita. Dal bacino della mamma sulla bua del bambino, al perdono di Dio sulle grande ferite della vita di ciascuno di noi, altro non si dimostra che solo l'amore guarisce, solo l'amore è capace di darci futuro e vita nuova. E soltanto sperimentare uno sguardo d'amore sulla nostra vita ci permette di ripartire dopo un fallimento, ci dà coraggio per riprendere contatto con la vita, per far più bella la nostra vita anche nonostante fatiche ed errori. Senza questo sguardo d'amore di Dio sulla nostra vita, la vita stessa resterebbe soltanto una lotta per la sopravvivenza. Si tratterebbe di dimostrare con tutte le forze che ci siamo meritati di vivere, ma così il nostro cuore resterebbe soltanto arido, ci prostrerebbe a terra, ci ripiegherebbe su noi stessi, saremmo cinici, chiusi nel nostro egoismo a cui questo mondo in competizione ci ha abituati. Occorre riscoprire questo sguardo di Dio sull'umanità, la verità che Gesù è venuto a portare, riscoprire la gratuità, perché la gratuità è la salvezza, riscoprire che siamo amati gratis e non perché lo meritiamo, è questo che riscalda il cuore e ci apre a toccare con mano la verità di Dio e il nostro sguardo verso l'alto, verso la speranza. Mi capita talvolta di sentire la verità di queste parole incontrando qualche famiglia, ho in mente una incontrata nell'occasione di un funerale, di un papà morto, ormai anziano, e del figlio, ormai divenuto adulto, è uscito da una situazione di tossicodipendenza. Con commozione raccontava come il padre non si sia mai vergognato di lui e che sia uscito da questa situazione solo grazie a questo sguardo di amore del padre, capace di incoraggiarlo e di sostenerlo. Dio non si vergogna di noi, Dio continua a incoraggiare la nostra vita, a mandare il suo figlio non per condannare, ma per salvare il mondo, gratis. Riscoprire questo sguardo di infinito amore, gratuito, posato su di noi, è ciò che ci risveglia alla vita, che ci restituisce dignità, che diventa gratitudine in noi e perciò voglia di rinascere e di esprimere la parte migliore della nostra umanità, una gratitudine che a sua volta diventa gratuità e quindi fraternità. Concludo con le parole di Alessandro D'Avenia nel suo ultimo romanzo, il libro L'Appello, uscito l'anno scorso, racconta la storia di un professore rimasto cieco a causa di una malattia al quale è affidata una classe particolarmente difficile di persone ormai ai margini della società e la carta vincente di questo professore è stata proprio la sua cecità, la sua incapacità a vedere con gli occhi, è ciò che gli ha permesso di vedere con il cuore la vita di coloro che aveva davanti. Scrive così il testo nelle sue battute finali. Noi nascondiamo proprio ciò per cui vorremmo essere amati, noi nascondiamo gli aspetti che riteniamo vergognosi e che non vogliamo mostrare per paura di essere giudicati e disprezzati, ma proprio in questo modo quegli aspetti finiscono per diventare invisibili prima che agli altri, a noi stessi e cominciano a tormentarci fino a che non troviamo il coraggio di mostrarli a chi vuole finalmente amarli. Spero di avervi mostrato che la scienza della vita è l'amore, perché solo l'amore arriva sino al mistero di ciò per cui vogliamo essere amati e gli dà un nome a cui possiamo rispondere senza più vergogna e senza più lacrime. Tutto il tempo in cui sono stato con voi e rimarrò vivo è quello dedicato ad amare gli uomini e Dio e a lasciarmi amare da Dio e dagli uomini. Ci auguriamo allora di scoprire questo sguardo d'amore di Dio che ci permette di alzare in alto lo sguardo verso di Lui con fiducia e gratitudine e che per questo ci permette di rinascere con un cuore rinnovato. Con immenso amore, oh Padre, hai amato il mondo nel dono del tuo figlio unigenito. A coloro che credono in Lui fa grazia della tua salvezza e infondi la certezza della tua misericordia. In essa è la vera speranza che libera da ogni paura e da ogni condanna. Affidiamo perciò al Signore nel segno della sua benedizione le nostre povertà, le nostre ferite, le nostre paure perché risorgano nella grazia della benedizione di Dio. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A tutti una buona giornata. Grazie a tutti.